Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, questa è una parte della trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. In questa trasmissione riprenderemo quello che è il Cragiolo dello Stragone e parleremo del discorso sulla contemplazione all'interno della via della Stragonaria. Al discorso sulla contemplazione faremo un'ampia introduzione, partendo da due articoli che sono usciti recentemente sul giornale La Repubblica e che ci permettono di capire anche che cosa è la contemplazione e a che cosa la contemplazione serve. Due articoli, uno si intitola Viaggio nella mente dei neonati, ecco le nostre prime emozioni e l'altro è un discorso di Galimberti, fatto il 9 agosto 2005 sulla Repubblica ed è intitolato C'è un po' di genio in tutte le menti. Perché? Usiamo questi due articoli per introdurre il discorso della contemplazione. Perché, come già vi ho detto in altre trasmissioni, io come apprendista Stragone sono fortunato. Sono fortunato perché, grazie alle ultime scoperte scientifiche e agli ultimi metodi di analisi, praticamente mi si mettono a disposizione tutta una serie di prove, tutta una serie di dimostrazioni, tutta una serie di verifiche che fa l'apparato scientifico, naturalmente, su quello che è la stragoneria, su quello che è la via alla conoscenza della stragoneria e si dimostra che la via alla conoscenza della stragoneria è un dato reale. Per contro, sempre le stesse scoperte scientifiche stanno a dimostrare come l'attività di distruzione dell'uomo messa in atto dalle religioni monoteiste, dagli adoratori del patto di Nazareth, dagli adoratori del macellare di Sodoma e Gomorra, siano delle attività distruttive nei confronti del singolo individuo. Lo sto dicendo io, lo sta scoprendo la scienza. E naturalmente, io che pratico stragoneria, io che riprendo i cammini degli antichi stragoni, antichi e nuovi stragoni, chiaramente mi servo di questi strumenti, perché? Perché se io avessi scelto di fare stragoneria in maniera classica, cioè prendermi quelle 10-20 persone e portarle a fare stragoneria, portarle per un cammino, costringerle a modificare se stessi, come hanno sempre fatto in maniera classica, diciamo così, di stragoni, non mi servivano le prove, le dimostrazioni. Siccome invece non me ne frega niente di fare ciò che facevano in maniera classica gli stragoni, mi interessa che le persone diventino consapevoli delle possibilità che hanno dentro di loro in relazione al mondo in cui vivono e non mi interessa niente costringere le persone a modificare, a modificare la loro struttura sinapsica, modificare il loro punto di vista con cui guardano il mondo, modificare le loro strategie di vita. Non mi interessa. Se le persone vogliono suicidarsi, per me sono liberissime di suicidarsi, non mi interessa assolutamente niente. Quello che a me interessa è che un numero sempre maggiore di persone diventi consapevole che esistono un infinito numero di possibilità maggiori e diverse con cui affrontare la propria esistenza, esistono dei risultati finali, esistono delle condizioni attraverso le quali si può affrontare la propria esistenza in maniera onorevole, in maniera positiva, in maniera determinata ed esistono dei modi con cui affrontare la propria esistenza in maniera distruttiva, in maniera autolesionista. Una volta fatto questo io ho finito, cioè io parlo per chi è in grado di trasformare quello che sto dicendo in prassi della propria vita, in prassi della propria esistenza. Chiaramente per trasformarlo in prassi della propria vita, in prassi della propria esistenza significa anche fare tutta una rivisitazione di quella che è la propria vita, significa vedere dove si può applicare i vari aspetti del crogiolo, dello stragone, significa vedere in che modo cambiare alcuni aspetti della propria esistenza. Perché? Perché non si può mai cambiare radicalmente la propria esistenza e ciò che si è. Perché ciò che si è viene formato nei primissime settimane di vita. E là c'è l'impostazione base. Che poi il cervello sia plastico, per cui la nostra attività, il nostro impegno, il nostro vivere per sfida ne modifica la struttura cerebrale, la nostra cultura, la sistematicità con la quale facciamo delle azioni, la partecipazione anche ai riti, gli interessi che ci diamo, porta ad una modificazione della struttura cerebrale, della struttura neuronale, porta all'apertura anche di collegamenti fra la parte esterna e la parte interna del cervello. Questo è un altro discorso, però noi partiamo sempre da una struttura adulta che si è fissata nel corso degli anni. Pertanto per questo motivo io uso molto quelle che sono le prove che dalla scienza mi arrivano, anche perché io sto sempre aspettando delle smentite di quello che sto facendo. Io sto aspettando delle dimostrazioni che quanto faccio è falso, non è vero, non è funzionale alla vita, non è negli interessi delle persone. Per cui io sto sempre aspettando di essere smentito da questo. Ma come avete ascoltato anche le nostre trasmissioni radiofoniche, più che gli insulti i cattolici non sono riusciti a andare oltre, più che stuprare bambini i cattolici non sono riusciti a fare, più che rivendicare il loro diritto di costringere persone inermi, in ginocchio a pregare come fossero delle ossesse, i cattolici non sono riusciti a fare. Pertanto io sto comunque aspettando smentite di quello che io sto facendo e non è che stia aspettando delle smentite come delle affermazioni, mi si deve dimostrare fisicamente delle smentite di quello che sto facendo. Però finora non solo non è mai avvenuto, ma sono avvenute conferme, 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 conferme. Perché l'arte della stragonaria in fondo è l'arte della vita. Proviamo un attimino a trattare due aspetti dell'uomo davanti alla vita, cioè davanti alla sua esistenza. Nel primo viaggio nella mente dei neonati abbiamo visto con Francesco oggi che quell'articolo ne ha passato solo sulla Repubblica, ha passato anche sul Corriere da Sera che vi ha dedicato una pagina. In realtà è un ampio lavoro fatto dal Newsweek sui riscontri di alcuni ricercatori scientifici. Io adesso vi leggerò l'intero articolo e poi faremo un'analisi di quella che è la trasformazione della capacità cerebrale e della capacità emozionale del bambino che va dalla nascita praticamente fino ai 10, oltre 10 mesi. Vi leggo un attimino dell'articolo che è a firma di Pat Wringert e Martha Brent. Nel cervello di un neonato indifeso e apparentemente inconsapevole di tutto, accade molto di più di quanto abbiate mai potuto supporre. Voi pensatevi un attimino, mentre io sto leggendo questo articolo, come venivano trattati i bambini, cioè bestiame da allevamento, cioè come ci si poneva nei confronti dei bambini nei primissimi mesi di vita. Provate a fare un'analisi, se avete avuto dei figli, come voi vi siete comportati nei primi giorni di vita, nel primo anno di vita del bambino e provate un pochino a sentire cosa vi sto dicendo. Nel cervello di un neonato indifeso e apparentemente inconsapevole di tutto, accade molto di più di quanto abbiate mai potuto supporre. Nuove ricerche stanno inducendo i pediatri e gli psicologi infantili a cambiare le loro convinzioni di lunga data sulle capacità emotive ed intellettive di bambini anche molto piccoli. Nel 1890 lo psicologo William James descrisse come una grande, inesauribile e animata confusione la visione del mondo dei neonati. Questo principio rimase indiscusso per quasi un quarto di secolo. I neonati erano creature dal cervello assai poco sviluppato, che si limitavano a imitare chi stava loro intorno e che davano prova soltanto delle emozioni più semplici come la felicità, la tristezza o la rabbia. La scienza odierna invece dà adesso un quadro del tutto diverso di quello che accade nel cervello e nell'animo dei neonati. Padroneggiano emozioni anche molto complesse come gelosia, simpatia e frustrazione che un tempo si riteneva imparassero verso i due o tre anni. I neonati di quattro mesi hanno già capacità avanzate di deduzione, nonché l'abilità di decifrare dei segni anche complessi. Hanno una paletta visiva piena di sfumature che permette loro di notare anche le più piccole differenze, specialmente nei volti, una dote che gli adulti e i bambini più grandi perdono. Una delle prime emozioni che provano i bambini, anche piccolissimi, è l'empatia. Su questo discorso dell'empatia, apro una parentesi, ne parleremo più tardi perché è un discorso fondamentale, importantissimo, di relazione fra l'uomo e il mondo. In realtà è una delle nostre capacità fondamentali che gli stragoni usano, però ne parleremo dopo. Allora, anche più è l'empatia. Anzi, forse nel cervello dei neonati già esiste la capacità di preoccuparsi per gli altri. Se si sistema un neonato accanto ad un altro che sta piangendo, con ogni probabilità finirà per piangere. Secondo Martin Hoffman, docente di psicologia dell'Università di New York, sin dalla nascita vi è qualche primogenitura, primogenia, forma di empatia. I bambini, sopra ai sei mesi, invece, non piangono più sentendo altri piccoli piangere, ma fanno smorfie per evidenziare la tristezza che provano per gli altri. Dai 13 ai 15 mesi, i piccoli tendono a prendere la faccenda di petto e cercano di consolare il compagno di giochi in lacrime. Parte dell'empatia potrebbe essere il prodotto di un'altra precoce abilità dei neonati. La capacità di discernere le emozioni dalle espressioni del viso delle persone che li circondano. Diane Montague, assistente e professoressa di psicologia dell'Università La Salla di Filadelfia, ha condotto degli esperimenti ricorrendo al gioco del cucù e ha reclutato decine di bambini di 4 mesi per sottoporli al test. Ha iniziato il gioco con gran sorriso. I neonati ne sono stati deliziati e l'hanno fissata con grande attenzione. La quarta volta però la dottoressa si è presentata con un'espressione di profonda tristezza sul volto. Questa volta non soltanto i bambini hanno distolto lo sguardo, ma non sono più tornati a guardarla anche quando ha ripreso a sorridere. Il rifiuto a instaurare un contatto visivo è un classico segno di angoscia nei bambini. Il se in seguito, un volto con un'espressione adirata, ha attirato nuovamente il loro sguardo, ma i loro volti non hanno evidenziato piacere. Sono parsi in allerta, dice Montaigne. Questo dimostra che i bambini sotto ai 6 mesi sono in grado di capire le espressioni del volto. Per quanto riguarda l'osservazione, i neonati iniziano a sviluppare veri e propri superpoteri a soli pochi mesi di età e riescono a distinguere le differenze nei volti degli altri esseri umani. Presso l'Università del Minnesota, il neurologo Charles Nelson, ha mostrato a un gruppo di bambini di 6 mesi di età le foto di un scimpanzé e ha concesso loro il tempo di osservarla fino a perdere interesse. In seguito è stata loro mostrata la foto di un altro scimpanzé. I bambini si sono vivacizzati e hanno osservato con attenzione anche quest'altra foto. I neonati, con grande facilità, hanno dimostrato di considerare ogni scimpanzé come un individuo a sé e sono rimasti affascinati da ogni nuovo volto. A meno di trascorrere una giornata allo zoo, nessuno di noi sarebbe in grado a prima vista di rilevare le differenze fra i diversi scimpanzé. Non ci riescono neppure i bambini di pochi mesi più grandi. A nove mesi un piccolo perde la capacità di distinguere uno scimpanzé dall'altro, ma al tempo stesso aumenta la sua capacità di osservare il volto umano. La capacità di mettersi in relazione bene con il mondo e il particolare con i propri genitori è importante soprattutto quando i bambini fanno i loro primi tentativi per iniziare a parlare. Il linguaggio dei bambini è qualcosa di molto di più che semplice imitazione. Michel Gottstein, psicologo della Cornell University, si è altresì interessato al modo in cui i genitori prestano attenzione ai suoni emessi dai loro bambini. Il genere di suoni semplici che attira l'attenzione dei genitori quando i loro figli hanno quattro mesi non destra la stessa reazione quando questi ultimi ne hanno otto. Questo fatto incentiva i bambini a sperimentare suoni e combinazioni di suoni sempre diverse, fino a quando ne trovano di nuovi che attirano su di loro l'attenzione dei genitori. È risaputo che il 15-20% dei bambini sono timidi e ansiosi per natura, ma i medici non capivano perché, mentre alcuni, superata la timidezza liberandosene per sempre, altri bambini ne rimangono oppressi. Studi condotti da Nathan Fox dell'Università del Maryland dimostrano che la timidezza inizialmente è biologicamente indotta e che lo stile comportamentale dei genitori ha un grande impatto sul genere di adulto che il loro bambino sarà. Ripeto, la timidezza iniziale è biologicamente indotta e che lo stile comportamentale dei genitori ha un grande impatto sul genere di adulto che il loro bambino sarà. I figli di genitori iperprotettivi spesso rimangono timidi e ansiosi anche da adulti. Invece i bambini nati da genitori sicuri di sei, sensibili, che li aiutano a correre dei rischi emotivi sollecitando di uscire dal loro guscio, spesso riescono a superare la timidezza. Stanley Grispan, professore di psichiatria e pediatria alla Facoltà di Medicina dell'Università di George Washington, ha di recente compilato una specie di checklist con altrettante tappe sociali ed emotive che i neonati devono conseguire ad età specifiche. Che cosa devono trarre da tutte queste nuove informazioni i genitori? Prima di tutto che è necessario rilassarsi. Solo perché il vostro bambino percepisce più di quello che si pensava non significa che sarà sconvolta per tutta la vita se piange un minuto di più nella sua culla mentre voi telefonate. I bambini hanno un desiderio immenso e da esso trago un enorme profitto. Di interagire, di avere del tempo trascorso a tu per tu e un contatto visivo. Il vostro neonato vi parla in ogni istante, tutto sta soltanto nel sapere come prestargli ascolto. se noi cambiassimo le parole e diciamo il neonato vi parla in ogni istante, dicessi il mondo vi parla in ogni istante, sta a voi prestarvi attenzione, non sbaglierei di un attimo. Proviamo un attimino a vedere le tappe della crescita del bambino. A dieci settimane. Intanto non è vero che per i neonati vale il cliché lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Già a dieci settimane di vita capiscono ad esempio che quando la mamma si è lontana dalla loro vista continua ad esserci. E questa è una contraddizione con tutta la scienza precedente. cellule. Il cervello di uno nato è circa un terzo rispetto a quello di un adulto ed è rindondante, ossia possiede migliaia di cellule in sovrannumero. Ora più che cellule in sovrannumero possiede tutta la capacità, tutto il reticolato sinapsico quasi completamente acceso. Cioè come se i neuroni collegassero tutte le cellule del cervello, ciò che non avviene in un adulto. Infatti a mano a mano che il bambino cresce è vero che il cervello si modifica e cresce anche lui, però si spengono i collegamenti neuronali fra cellula e cellula. In pratica è come se la vita quotidiana di un bambino, i fenomeni che percepisce, selezionassero la quantità di cellule e di collegamenti da mantenere attivi. È chiaro che se i genitori in questa ottica, in questo momento dell'esistenza e della crescita del bambino, che va da 1 a 3, a 4, a 5 anni in questo caso, gli forniscono tutta una serie di strumenti per fare della sua vita attiva, per fare della sua vita interessante e gli adulti presentano al bambino proprio la loro sicurezza, il loro modo di affrontare la vita, anche i loro errori specialmente, i loro tentativi, cioè il loro provarci sempre, riescono a mantenere attivo all'interno del cervello del loro bambino una quantità di collegamenti neuronali infinitamente maggiore che non i bambini a cui vengono forniti un minor numero di stimoli o che hanno dei genitori tipo Superman, fai mi, fai tutto, fai presto, oppure genitori che si sentono tanto Superman e si sentono tanto adulti. In pratica questo tipo di genitore non fa altro che spegnere una quantità maggiore di collegamenti neuronali nel bambino. I collegamenti neuronali sono tutti accesi al lato della nascita e un cervello adulto è in grado di modificarli ed è il discorso della plasticità cerebrale, cioè se noi facciamo un'attività, se noi ci impegniamo in sfide della vita, se noi ci mettiamo a studiare una lingua, se noi leggiamo, se noi ci interessiamo, se noi abbiamo le sensazioni coinvolte, se noi facciamo l'amore, cioè se noi abbiamo un'attività soddisfacente, attiva, appassionata, impegnata, il nostro cervello viene a rimodellarsi, cioè si modella e si attiva, si attiva progressivamente. Però chiaramente ciò che è stato perso nell'età infantile, cioè nell'età molto piccola, nei primi anni di vita, nei primi mesi di vita, è quello che è perso, è perso. È ovvio che noi siamo in grado di riattivare una certa quantità di collegamenti neuronali, per cui possiamo anche cambiare la nostra visione del mondo, possiamo cambiare tante cose, però tanto più il cambiamento è profondo dentro di noi e tanto più fatica richiede da noi, tanto più dolore richiede da noi. Per cui chi è stato messo in ginocchio a pregare il macellare di Sodoma e Gomorra e pensa al Dio dei cristiani come un Dio buono, per riuscire a prendere in mano una strada virtuosa, là è un disastro. È più facile che quell'individuo si ritrova a rubare insieme a fazze o a armeggiare se proprio il termine rubare non è corretto, ad armeggiare fra i soldi e le finanze che non una via che sia funzionale sia a se stesso che alla società in cui viviamo. Proviamo ad andare avanti sempre col bambino. A 4 mesi distinguono le emozioni dalle espressioni del volto, i neonati sono deliziati da un sorriso, distolgono lo sguardo se vedono qualcuno triste e sono vigili in allerta davanti a un volto arrabbiato. In questi 4 mesi la vista aumenta le connessioni fra neuroni e aree cerebrali e cresce la capacità delle aree predisposte alla vista. Per cui praticamente cosa succede? Succede che cominciamo a dargli un condizionamento educazionale attraverso la vista. Per cui sta all'adulto presentare al bambino tutta una serie di cose che lo aiutino anche dal grande, cioè gli dia una capacità cerebrale in cui la struttura neuronale diventa agile, diventa svelta e acquisca il suo senso della vista e attraverso la vista impari ad affrontare i fenomeni, impari ad percepire il mondo, a leggere il mondo e a comprendere il mondo. Sta all'adulto a fare questo. Per cui è inutile che noi diciamo ci sono dei bambini inadeguati, in realtà ci sono degli adulti inadeguati e la loro inadeguatezza la trasmettono sul bambino. Andiamo ancora avanti. A sei mesi. I volti hanno uno spettro visivo pieno di sfumature che permette loro di notare differenze anche minime, specialmente nei volti, che bambini più grandi e adulti non sono più in grado di vedere. Corteccia. La corteccia cerebrale resta attiva anche durante il sonno. Questa è una cosa particolare che ne parleremo. Il cervello continua ad accrescersi in modo sorprendente. Allora, vediamo un attimino a mettere in relazione queste cose. Innanzitutto il bambino comincia a fissare la sua attenzione sul volto. Questo è ciò che ci dice la scienza. In realtà il bambino comincia a leggere quei segnali corporei di tutti gli esseri, avevamo detto che guardavano le foto dello scimpanzee, in realtà di tutti gli esseri del mondo e a distinguere quali sono i segnali della forma che trasmettono al bambino le emozioni di ogni essere del mondo. Cioè il bambino, come ognuno di noi in realtà, non è separato dal mondo, ma è parte integrante del mondo, vive nel mondo e gli oggetti del mondo, gli alberi, le piante, gli animali comunicano con noi. Siamo noi che diventando a un certo punto alziamo una barriera nei loro confronti. Però esiste nel bambino la capacità di osservare le emozioni e le differenze fra ogni oggetto e l'intelligenza che sta dietro ad ogni oggetto. Questa fase però, attenzione, è caratterizzata è caratterizzata dalla corteccia cerebrale che resta attiva anche durante il sonno. E qui c'è tutto un discorso da fare. La corteccia cerebrale è praticamente la sede della ragione. In quel momento, sei mesi, significa che la corteccia cerebrale sta avendo il sopravvento sulla parte interna del cervello. La ragione, la descrizione della forma sta avendo il sopravvento. Qui abbiamo il bambino che sta vivendo una specie di conflittualità, che non è una vera e propria conflittualità. In pratica percepisce le emozioni dal mondo, ma cerca i segnali visivi con cui tradurre le emozioni che riceve dal mondo. E questo è il fissare il volto, capire le espressioni del volto. In realtà capisce, percepisce le emozioni, ma va a cercare i segnali oggettivi che ci sono sul volto delle persone e degli oggetti. La corteccia cerebrale attiva durante il sonno sta a significare che la corteccia cerebrale si sta costruendo, la ragione si sta costruendo e si sta impossessando della persona. Ed è a questo punto, nei sei mesi prima che sono capitati, con cui voi avete agito col bambino, che potete dargli al bambino la forza per superare quel momento oppure renderlo più debole nell'affrontare quel momento. però in questo momento si sta formando la corteccia cerebrale e il cervello continua a crescere in maniera spaventosa. Sette mesi, empatia, è una delle prime emozioni che provano i neonati. Per questo, sentendo altri piangere, piangono e sopra i sei mesi fanno smorfe di tristezza. fra i 13 e i 15 mesi cercano persino di consolare un compagno in lacrime. Le aree cerebrali crescono, le aree predisposte alla comprensione del linguaggio, i bambini iniziano a imitare i primi suoni. Attenzione! La capacità empatica è la capacità di percepire, di soggettivare ciò che ci arriva dal mondo attorno a noi. Ciò che ci arriva dal mondo attorno a noi, da parte dei genitori nei confronti dei bambini, è una delle cose importanti. Però la cosa più grossa e immediata che colpisce nel profondo del bambino è se stesso, è un altro se stesso che in quel momento sta piangendo o sta facendo delle altre cose. Questo è ciò che colpisce immediato. Dopodiché, mano a mano, che andiamo distanti dal bambino, cioè che arriviamo ai genitori, che arriviamo agli alberi, che arriviamo al mondo, che arriviamo agli animali, c'è sempre una distanza maggiore di capacità di percezione empatica. Ma il bambino ha sempre la capacità di percezione empatica. E come ce l'ha il bambino? Ce l'ha anche l'adulto. Perché la percezione empatica non è che sparisce nelle persone. Si alzano i muri della ragione. Si alza il muro della forma, il muro della numerazione, il muro della quantità, il muro anche di ciò che noi proiettiamo nel mondo, il nostro ego che proietta nel mondo se stesso. Però ricordatevi che noi abbiamo la capacità empatica di percepire il mondo che ci sta attorno. Ed è una delle cose maggiori che utilizzano gli stregoni. C'è un passo in il Vangelo di Tommaso Didimo dove a un certo punto, adesso vado a memoria perché non mi ricordo più il passo esatto, si chiede che cos'è la conoscenza quando un adulto può avere la conoscenza. E a un certo punto viene risposto da Tommaso Didimo quando un vecchio avrà la capacità di chiedere al bambino com'è il mondo. Cioè di chiedere al neonato, non al bambino, al neonato com'è il mondo. E in realtà risolvendo la questione si tratta effettivamente delle capacità empatiche che hanno gli individui, che ha il neonato. E se l'adulto non riesce a rivitalizzare o mantenere attiva la capacità empatica nei confronti del mondo in cui vive, chiaramente è un morto che cammina. Ed è il primo elemento della stregonaria. Cioè riuscire a capire i bisogni del mondo in cui noi stiamo vivendo. Andiamo avanti ancora. Otto mesi, linguaggio. I bambini sperimentano combinazioni vocali in grado di destare attenzione e a nove mesi sono capaci di distinguere i fenomeni di una lingua straniera, ma solo interagendo direttamente con adulti madrelingua. L'ippocampo, l'area del cervello, implica dei processi di memorizzazione. Si sviluppa finché raggiunti i 12 mesi i bambini sono in grado di tenere a mente episodi avvenuti prima. A dieci mesi, sguardo. I bambini sono capaci di seguire lo sguardo, comprendono lo sguardo e i neonati iniziano a comprendere l'altro. Secondo i ricercatori questo è non solo un segno di crescita emotiva e sociale, ma anche base del futuro sviluppo del linguaggio. Capacità cerebrale. Dopo i 12 mesi, durante il sonno, la corteccia cerebrale rimane inattiva. Il processo di dominio della corteccia cerebrale sull'individuo a 12 mesi si è concluso. A 18 mesi, sotto il controllo della corteccia prefrontale, i piccoli possono fare programmi. A 24 mesi, con la capacità cerebrale aumentata, esplorano l'ambiente. A 24 mesi, i bambini, se seguiti, possono leggere. A 24 mesi, i bambini possono leggere. Esperienza personale. Questo è che cos'è un bambino. Un bambino è un soggetto in crescita. E voi che cavolo pensate che sia un adulto, se non un soggetto in crescita? E se non è un soggetto in crescita, significa che è già morto. Rifletteteci. Perché questo è una delle cose fondamentali della stregonaria. Ed è il modo con cui andiamo ad incontrare gli dèi. Ma non ho finito qui. E lo so, è un'introduzione piuttosto lunghina questa, ma d'altronde cosa volete fare? Fate conto che questo articolo qua, sul viaggio della mente di neonati, è dell'8 agosto, no? Ebbene, il 9 agosto viene fuori questo articolo di Galimberti, che va proprio ad integrare, se vogliamo, il discorso dei neonati. Probabilmente l'avrà anche scritto in maniera conseguenziale. Ed è intitolato I miti d'oggi, l'intelligenza. C'è un po' di genio in tutte le menti. Ve lo leggo anche questo, vorrei dire che oggi faremo questi due articoli. Tanto perché dobbiamo anche capire com'è sto uomo. Perché noi diciamo che dobbiamo costruirci, dobbiamo costruirci, dobbiamo impadronirci degli strumenti per continuare a penetrare lo sconosciuto che ci circonda, che non siamo creati di immagine e somiglianza di opazzo, cretino e deficiente. Bisogna pure che ve lo spieghi in qualche modo, no? C'è un po' di genio in tutte le menti. Quando i genitori vanno a parlare con i professori dei loro figli, si lasciano dire tutto il male possibile, suo figlio non studia, disturba, si impegna poco, è sempre distratto, potrebbe fare di più. Purché tutte queste negligenze e inadeguatezze non mettono in discussione l'intelligenza del figlio. E in un certo senso i genitori a loro insaputa hanno anche ragione e i professori fanno bene a non contraddirli. Infatti, quando si parli di una persona non si dovrebbe mai usare l'aggettivo intelligente perché la qualità che l'aggettivo vorrebbe designare non esiste. L'intelligente, infatti, è una moltitudine di forme, la maggior parte delle quali trova nelle nostre scuole, nei centri di diagnosi psicologica e nel giudizio della gente, solo la sua mortificazione. È noto, ad esempio, che i superdotati vanno male a scuola perché il modello di intelligenza che i professori hanno in mente e su cui misurano i rendimenti scolastici è costruito sulla categoria della flessibilità che nel caso dell'intelligenza equivale a mediocrità. Flessibile è infatti quella intelligenza che, versata in ogni direzione, non presenta una particolare inclinazione per nulla e perciò è in grado di dispiegarsi a ventaglio su tutto perché nulla la inclina in modo decisivo. Così si stroncano inclinazioni sull'altare della genericità che non è il nozionismo contro cui si sono fatte in anni passate stupide battaglie ma la supposizione che l'intelligenza sia una dimensione versatile e versata per qualsiasi contenuto. Non è così. Così come non è da privilegiare, come fa la nostra scuola, l'intelligenza convergente che è quella forma di pensiero che non si lascia influenzare dagli spunti dell'immaginazione ma tende all'univocità delle risposte a cui tutte le problematiche vengono ricondotte. Più interessante, anche se meno apprezzata a scuola, è l'intelligenza divergente, tipica dei creativi, capaci di soluzioni molteplici e originali perché invece di accontentarsi della soluzione dei problemi tendono a riorganizzare gli elementi fino a ribaltare i termini del problema per dar vita a nuove ideazioni. Nei suoi molteplici studi sull'argomento Howard Gardner e cui i libri sono editi da Feltrinelli mostra che non c'è un'intelligenza generica quella su cui di solito si applica la misurazione della scuola ma forme così diverse fra loro che non è possibile unificarle e misurarle in modo uniforme. Ogni forma di intelligenza infatti è percorsa dal genio che non è una prerogativa di Leonardo ma di tutte le menti che sempre sono inclinati in una certa direzione a partire dalla quale scaturisce per ognuno la sua particolare ed esclusiva visione del mondo. Già a livello biologico si constatano differenze abissali per cui ad esempio a due anni c'è chi recepisce una sequenza di musica classica come armonia e chi come dissonanza. Allo stesso modo c'è un'intelligenza linguistica per la quale le parole non hanno profondità ma superficialità. Questi non sono giudizi di valore ma dimensioni geometriche in base alle quali il profondo ha a che fare con la verticalità e il superficiale con l'orizzontalità. Un'intelligenza linguistica non scopre una parola nella sua radice e nel suo spessore di significato ma è molto abile nel trasporre un termine o una costruzione da una lingua all'altra. Ciò che lascia supporre che chi è padrone di molte lingue ha un'intelligenza che non è turbata dalle differenze antropologiche e dalle differenze di mondo che in Italia hanno generato un linguaggio e in Germania un altro per cui senza questo carico antropologico e senza questa sensibilità per la differenza dei mondi può trasporre con maggiore agilità un termine da una lingua all'altra. Per questo Nietzsche poteva dire chissà le lingue è un imbecille l'espressione perentoria e per i professori di lingue può suonare persino offensiva ma il senso non è recondito intanto si può trasporre un termine da una lingua all'altra in quanto non ci si è inabissati nel suo senso e la parola non ci ha fatto prigionieri della sua profondità. C'è un'intelligenza logico-matematica che sulla Terra non vede cose ma analogie e rapporti. Il primo uomo, scrive Vinterhead che coesse l'analogia esistente fra un gruppo di sette pesci e un gruppo di sette giorni compì un notevole passo avanti nella storia del pensiero. Per questo tipo di intelligenza le cose perdono il loro spessore materiale il pesce non rimanda al mare e ai naviganti così come i giorni non rimandano alle opere quotidiane che Siodo descrive nelle opere ai giorni. Per l'intelligenza logico-matematica le cose diventano rapporti e i numeri che li esprimono diventano la spiegazione del mondo nel senso in cui diciamo che qualcosa si dispiega si apre alla leggibilità. Platone ne aveva ben coscienza per questo sul frontespizio dell'Accademia da lui fondata aveva fatto scrivere non si entra qui se non si è geometric. c'è poi un'intelligenza musicale che materializza la geometria del suono questa materializzazione instaura l'uomo come colui che ascolta il ritmo di una creazione che lo trascende la musica non si dice si ascolta e l'orecchio diventa quel padiglione aperto al mondo per cogliere quell'armonia invisibile che al dire di Eraclito va al più della visibile. ascoltate da un'intelligenza musicale le parole cessano di avere un senso per guadagnare un suono dominante non è più il significato ma la voce il suo tono da cui si desume un senso nascosto del mondo che non si può dire ma solo udire. c'è un'intelligenza spaziale che dispiega un mondo che sfugge alle coordinate geometriche per offrirsi alle azioni che disegnano quella spazialità visiva sonora emotiva che è anteriore alla distinzione dei sensi perché il valore sensoriale di ogni elemento è determinato dalla sua funzione nell'insieme e varia con questa funzione. per il navigante ad esempio il mare non è uno spazio oggettivo ma un campo di forze percorso da linee di forza le correnti e articolato in settori le rotte che lo sollecitano a certi movimenti e lo sostengono quasi a sua insaputa la terra che intravede le correnti che sente le onde che taglia non li sono presenti come un dato oggettivo ma come il termine delle sue intenzioni delle sue azioni nella burrasca non percepisce cose ma fisionomie fisionomie familiari come la terra che a distanza si profila e fisionomie ostili come le onde della cui altezza scorge non tanto una dimensione quanto una minaccia. Se nello sguardo il navigante è magicamente congiunto alla meta è nella forza nell'azione dei suoi gesti la possibilità di pervenirvi qui la sua intelligenza è tutta raccolta nella dialettica corporea tra l'ambiente e l'azione c'è poi un'intelligenza corporea che guarda il mondo non per scoprirlo ma per abitarlo abitare non è conoscere è sentirsi a casa ospitati da uno spazio che non ci ignora tra cose che dicono il nostro vissuto fra volti che non c'è bisogno di riconoscere perché nel loro sguardo ci sono le tracce dell'ultimo congedo abitare è sapere dove deporre l'abito dove sedere alla mensa dove incontrare l'altro abitare abitare è trasfigurare le cose e caricarli di sensi che trascendono la loro pura oggettività è sottrarre all'armonia che le trattiene nella loro inseità per restituirle ai nostri gesti abituali per restituirle ai nostri gesti abituali che consentono al nostro corpo di sentirsi fra le sue cose presso di sé frequentando il mondo l'intelligenza corporea non è mai percorsa dal sospetto che la sua percezione possa essere un'illusione rispetto a qualche presunta verità in sé perché proprio confrontandole con le percezioni ha imparato a riconoscere le illusioni che sono sempre ospitate dal silenzio del mondo da una risposta mancata c'è infine un'intelligenza psicologica per la quale il mondo è uno specchio di sé proiettando i propri vissuti gli uomini hanno incominciato a catalogare la natura secondo i miti dell'anima ne è nato un mondo immaginario di cui i poeti e i mistici sono i gelosi custodi a loro si deve la nobiltà delle nostre passioni la forma mitologica in forma mitologica hanno saputo affidare al cielo quanto noi oggi in forma patologica affidiamo alla psichiatria perché gli uomini non vivono più all'altezza delle loro passioni perché nei loro dei sdai non scolgono più un'intelligenza perché dopo averle private della loro intrinseca intenzionalità si è assegnato alle nostre passioni solo lo spazio opaco e buio dei nostri corpi che ne ha fatto la ragione di noi dove ci porta l'itinerario dell'intelligenza scientifico tecnica divenuta egemone non perdiamo così e per sempre le tracce del cammino percorso agli uomini della scuola l'invito a non demolire quelle diverse forme di intelligenza in cui è costruito un potenziale di umanità diverso da quella oggi compiutamente dispiegata sotto il segno della tecnica contro la tecnica non abbiamo nulla da obiettare se non la sua funzione egemone e totalizzante che lascia perire ai suoi margini tutto quel volume di senso che non essendo tecnicamente fruibile è lasciato essere come parole in incidente puro rumore che non fa storia ma per questo è necessario che la scuola si declini al plurale e insegua attraverso un'articolazione totale tutte quelle forme di intelligenza in cui sono costruite quelle possibilità che in un mondo sempre più strutturato in modo funzionale diventano gli unici ricettacoli del senso un senso trovato in sé nella forma della propria intelligenza ed è fondamentale a questo punto è fondamentale a questo punto riuscire a capire che esiste un numero grandissimo di intelligenze esiste un numero grandissimo attraverso il quale si può guardare il mondo si può percepire e si può vivere nel mondo allora tutto questo è dentro di noi dentro di noi c'è il bambino che cresce noi diventiamo delle persone che crescono dentro di noi ci sono centinaia e centinaia di intelligenze ognuno di noi ha delle specificità ma dentro anche tutto il resto ecco tutto quello questi due articoli che io vi ho letto vengono fatti uscire dall'uomo attraverso la tecnica della contemplazione la tecnica della contemplazione è la tecnica attraverso la quale chi pratica stragonaria costruisce le assonanze con il mondo andiamo un attimino siccome ormai siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione vediamo un attimino di cogliere qualche minuto qualche secondo di contemplazione che magari dopo riprenderemo più compiutamente la prossima volta la contemplazione è una pratica esclusivamente pagana politeista nell'uso dei sensi finalizzata a penetrare il mondo nel quale viviamo contemplare è finalizzato ad organizzare noi stessi al fine di riconoscere nell'oggetto sul quale poggiamo i sensi concentrando noi stessi le nostre stesse tensioni e i nostri stessi bisogni attraverso la messa a fuoco di fenomeni inusuali con cui l'oggetto contemplato si presenta a noi tradotto in termini dell'articolo che abbiamo letto sui bambini non è altro che costruire quella situazione di empatia a recuperare l'empatia fra noi e gli oggetti del mondo prendiamo ad esempio un falò contemplare un falò ci si siede a una certa distanza dal fuoco in modo che il fumo non disturbi la concentrazione ci si rilassa e si sceglie il senso attraverso il quale effettuare la contemplazione dal momento che si tratta di un fuoco possiamo eliminare immediatamente i sensi del tatto e del gusto e dell'olfatto questi sensi li usiamo per altri tipi di contemplazione possiamo scegliere la vista o l'udito se scegliamo la vista è necessario sfuocare gli occhi se scegliamo l'udito non è necessario alterarlo ascoltare la voce del fuoco non rientra nell'uso comune della ragione guardare il fuoco rientra nell'uso comune della ragione se si decide di contemplare con l'udito è necessario chiudere gli occhi in modo che la vista non influenzi quanto si ode ora parliamo solo dell'uso della vista sfuocare gli occhi si può fare in tre modi incrociare gli occhi sdoppiando il falò e mettere a fuoco la propria attenzione in mezzo ai due falò questa pratica è la più semplice si può focalizzare la vista su un punto intermedio fra il veggente e il falò in cui non c'è niente mantenendo l'attenzione sul fuoco è una pratica abbastanza difficile puntare la vista su un punto che non ha nulla da vedere il terzo modo è tirare indietro lo sguardo facendo pressione al centro della fronte l'importante è che l'attenzione rimanga sul falò mentre le immagini che noi abbiamo siano diverse da quelle usuali a questo punto si fa il vuoto nella mente si blocca il dialogo interno l'unica cosa che per noi esiste è il falò che lo guardiamo in maniera diversa dal solito ma senza usare parole per descrivere quanto vediamo per controllare lo sforzo è necessario giocare sulla respirazione ritmarla o più veloce o più lentamente al fine di aiutarci a mantenere al silenzio il dialogo interno in questo caso si avrà un doppio uso dell'attenzione da un lato attraverso gli occhi sarà concentrata sul fuoco attraverso i nostri sforzi interni sarà concentrata sul nostro respiro mi fermo qua dopo lo riprenderò in seguito però se voi avete ascoltato attentamente la descrizione dell'introduzione alla contemplazione vi accorgerete che non è molto diversa da quello che fa il bambino appena nato in maniera inversa cioè noi dobbiamo partire dalla corteccia cerebrale dalla ragione dalla ragione dalla forma per riuscire a entrare nella percezione per riuscire ad entrare nell'intuizione per riuscire ad entrare in percezione alterata per cui noi dobbiamo riuscire a rivitalizzare quello che è la nostra capacità empatica mentre il bambino nelle fotografie osserva attentamente la vista mette a fuoco il viso delle persone per riuscire a accogliere le loro emozioni o meglio coglie le emozioni ma cerca di leggerle nel viso noi dobbiamo fare esattamente l'operazione contraria noi dobbiamo riuscire a vedere il fuoco non per la sua forma in essere ma perciò che è in maniera diversa e dobbiamo sentirlo con i sensi interni per sentire il fuoco con i sensi interni e sto parlando del fuoco ma posso parlare anche di un albero di una pianta di un oggetto di una persona di qualsunque persona è necessario riuscire a bloccare la ragione riuscire a bloccare l'attività di quella corteccia cerebrale che a sei mesi era attiva anche quando dormivamo a dodici mesi invece aveva preso il controllo dell'individuo bene noi dobbiamo ritornare a riprenderci in mano quella che è la capacità empatica quella che è la capacità di percepire gli oggetti in quanto tali e le loro emozioni praticamente noi dobbiamo tornare indietro è un lavoro faticosissimo perché io vi ho raccontato la tecnica ma non vi ho raccontato quanto fatica si fa a manifestare da usare quotidianamente quella tecnica per modificare la propria capacità di percezione nel mondo e questo anche se io ve lo dico non sarà mai la fatica che dovete fare voi perché ogni persona deve fare le proprie fatiche però se voi notate come abbiamo detto in contemplazione l'uso degli occhi nella contemplazione stiamo invertendo i termini della fissità che invece ha fatto il bambino boh sulla contemplazione io mi fermo qui dopodiché possiamo anche parlare dei vari tipi di intelligenza che vengono manifestati mediante la contemplazione ma essenzialmente viene rivitalizzata quella che è l'intelligenza di ciascuno cioè quella che è la capacità di ciascuno di penetrare a modo suo il mondo in cui viviamo infatti vi ricordo che in stregoneria non c'è una verità non c'è una verità su cui fissare le persone non c'è una meta da raggiungere c'è una trasformazione continua benissimo io intanto mi fermo qui con la contemplazione spero di aver messo abbastanza carne al fuoco oggi e se non è abbastanza farò di meglio la prossima volta e al limite posso attaccare i telefoni ricordando che in agosto c'è il rito della Deuotio che teniamo sull'altipiano di Asiago e a settembre c'è il rito invece del equinozio d'autunno che teniamo presso il bosco sacro di Esolo per la Deuotio è necessario essere conosciuti dai vari membri della Federazione Pagano oppure di esserci già stati e di prendere contatti con persone che ci sono già state ricordo il numero di telefono 049-600-600 e 049-700-838 pronto ciao Gianpaolo ciao mi chiedevo adesso avevo seguito qualsiasi la trasmissione e mi chiedevo perché devo essere di un centro di uno di un di un infame di una verità ma voglio dire perché dobbiamo essere dobbiamo avere un capo carismatico che è l'uno ed è così limitato proprio perché geometricamente è limitato l'uno perché non c'è indipendenza e interdipendenza fra le cose fra gli oggetti fra gli insiemi fra tutti il circostante vedo più logico parlando proprio di logica terra a terra molto più logico l'indipendenza e l'interdipendenza contemporaneamente che seguire un folle un tiranno il tiranno è proprio la denominazione il tiranno noi dobbiamo sottostare a un tiranno che poi è così limitato che non può essere non può essere infinito proprio perché è uno e uno non può essere infinito se tu mi dici invece indefinibile indipendenza interdipendenza questi insiemi che come il mare come che fluttuano che vanno su e giù così allora e di fatti tu hai detto prima la verità quale verità no le verità le sensazioni che proviamo noi altri quello che ci occorre quello che realmente ci occorre non le bubole di un tiranno che lì ti è fatto in maniera sbagliata per poi correggerti per poi darti il castiglio un freni cioè non riesco veramente a comprendere l'uno va bene e adesso ti dico due cosette sulla verità grazie ciao ciao ricordate che nell'antica nell'antica religione greca e anche romana la verità è estia o vesta se volete a Roma ed è immobile è al centro della casa e non si muove dalla e soltanto Demetra può farla cambiare per cui non si è mai non si è mai venerato abbastanza estia ma non si è mai capito che estia si può venerarla solo se si cambia infatti la verità è immobile a meno che noi non la cambiamo con la nostra determinazione con la nostra volontà e guarda caso facendoci la sorella di estia ed è Demetra perché solo Demetra è libertà e libertà è l'unica cosa che cambia la verità bene io ho chiuso qui la trasmissione magia stragonaria paganesimo vi do appuntamento per giovedì prossimo e nella sera continuerò a parlare di contemplazione prometto adesso vi ho letto un pezzettino del discorso della contemplazione che serviva per integrare diciamo così quello che è il discorso degli articoli che vi ho letto però magari dalla prossima volta comincerò dall'inizio il discorso a contemplazione a meno che la stampa non decida di darmi degli articoli che mi dimostrano ancora di più cos'è il crogiolo della stragone e la grandiosità di quello che stiamo facendo per questa radio che allora vi leggerò anche quegli articoli perché in effetti mai la scienza ha preso atto insomma di quello che stiamo facendo e vi assicuro che in internet le cose stanno girando in maniera incredibile io oggi sono riuscito ad aprire un po' di contatori e vi assicuro che centinaia centinaia di persone in pieno agosto stanno venendo sui contatori sulle pagine federazione pagana e si stanno scaricando pagine federazione pagana punto it ma anche quelle di collegio di sali di barba 3 quelli dell'istituto cioè praticamente c'è un vero e proprio assalto di visite sui nostri siti e si stanno scaricando centinaia e centinaia di pagine ed è un ottimo segnale questo perché lo so che molti sono cattolici che vengono a leggersi quando ti arriva un'email di un cattolico che ti dice ma come mai che tu che sei anticattolico conosci i Vangeli conosci la Bibbia meglio di me beh gli ho dato dell'imbecille perché uno che dice sono cristiano ma non conosco i testi può essere solo un imbecille ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo ciao